è veramente un questione strabiliante, l'Africa ho sentito poi altri amici appunto, c'è che eroe della Sardegna parecchi molti amici appunto ho sentito su questa frequenza qua a te ancora Andrea, se hai ascoltato il Nino se non che era uno Romeo, Kilo Golf appunto 043 in Torino, so che l'acquario è 58 per gli amici di Eroger K è positivo, è molto meglio Nino non so se avevi qualche problema o se c'erano delle sovramodulazioni ma prima non riuscivo a copiarti perfettamente ok, adesso mi dirai poi se sono centrato anch'io in frequenza se mi hai inseguito, balle varie dai poi se vuoi provare a fare te qualche chiamata visto che hai un po' più di potenza a disposizione un po' l'antenna un po' in posizione migliore della mia vediamo se ci ascoltano dal sud Italia se ci ascolta ancora la Sardegna ok, dai, di nuovo a te Nino eh, d'accordo Andrea no, non è che ho tanta potenza sto uscendo con i watt della radio 15 watt appunto che è quella che permette questa radio qua non permette di più è un classico E5 a modello 200 canali che c'è circa 25-30 anni corti, tanto per intenderci e lo smulverante funziona ancora bene vediamo se non è un po' l'interno di Tornino un accelma, un accelma per gli amici di Roger K qua la città di Torino in ascolto tra Portola Andrea e Nino se non che la quale è 58 avanti per gli amici di Roger K avanti, un RGK 172 se coppi 1-6-5 RGK 0-7-9 allora, vediamo un po', RGK 0-7-9 vediamo un po' se mi hai ascoltato anche il cambio guarda, RGK 4-0-4-3 attenzione, attenzione un'unica RGK se coppi a Sardegna un'unica 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 0-7-9 potrà un po' se è stato se avrà modulato e poi ripetere mamma mia che bailame e poi se ne sentite il RGK arriva un pochino un pochino più disturbato c'era un'unica un RGK da Portola che aveva una bombetta attenzione Roger K la città di Torino è in chiamata brecco brecco sono praticamente zona stadio delle Alpi che è in chiamata che c'è ancora no negativo non sono in altura vediamo un po' se la Sardegna ascolta la città di Torino poi vai te Nino attenzione attenzione 27 15 in Torino come un'unica con un'unica con un'unica con un'unica con un'unica con un'unica che chiama Antonio uno alla volta dunque Antonio se ascolti la RGK 043 in Torino attenzione my friend copy ho capito ripeti attenzione 27 615 RGK RGK 079 QTH Sardegna attenzione la città di Torino è in chiamata brecco brecco vediamo 1 RGK 079 0GK 6 043 in Torino che ma è bello che ma è bello allora io ho un po' chi ascolta questa funzione che lavora in quelle piste 1 eh guarda che la QSL non è arrivata eh eh ti cercavo altro perché mi voglio sbagliare con qualcosa di rinunico eh 1 Romeo Golf Kilo 013 in chiamata la città di Torino brecco brecco minuscolo Papa Sierra è troppo casino ragazzi però più tardi ci sentiamo ciao è positivo Nino tra un po' vado a cena eh vado a cena così poi carico il video su YouTube è positivo dai un po' di ascolto ancora poi scappo via anch'io Antonio 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 un attimo Algo vai 20 sopra 20 sopra 068 068 079 qua stavo dicendo io sono Giaccarotti 3 620 amici di Roger K si copiate Michele Romeo Oscar Charlie Charlie India Charlie Alta del cosenza 5 RGK 079 2 vediamo un po' attenzione Michele sto ascoltando la città di Torino di Roger K 043 Ciao ciao